Inaugurata la 65esima edizione della mostra mercato dei fiori delle piante ornamentali organizzata dal comune di Pesaro, in piazza del popolo da oggi fino a domenica 6 ottobre si potranno acquistare piante e fiori di ogni tipo, da quelli più comuni, più rari e pregiati Le 21 bancarelle saranno dedicate anche alla vendita di tartufi, vasi e pentole in terracotta Sotto il portico di Palazzo Ducale ci saranno tre stende di miele e tre di ceramica artistica pesarese Novità di quest'anno è il Giardino delle Farfalle, nel quale verrà ricreato in centro un'area ottimale per attirarle attraverso la piantumazione con erba, corso d'acqua e una piccola collina con dislivello Spazio poi dedicato anche ai più piccoli, durante l'inaugurazione sono stati donati a loro mille bulbi che sabato 5 dalle ore 14.30 nell'ambito della manifestazione a piedi nel parco verranno piantumati al parco Miralfiore Una fiera che ha coinvolto non solo florovivaisti ma anche ceramisti, artisti e quindi una bella manifestazione sono sicuro che questo 4, 5 e 6 ottobre qua nella Piazza del Popolo di Pesaro sarà un evento molto partecipato e vivo Tra gli appuntamenti nel pomeriggio di sabato 5 ottobre nell'atrio del Palazzo Comunale di Piazza del Popolo si esibirà il pianista Riccardo Maria Ricci con un pianoforte a coda La manifestazione gode anche di collaborazioni con gli istituti della città come il Benelli che presenterà i propri prodotti di bellezza a base vegetale e l'istituto Cecchi invece esporrà vini e piante Grazie